Mentre prego i proprietari e dei cani dell'ottavo raggruppamento, ultimo per quest'oggi, di prepararsi nel pre-ring. Ecco qua, signori, le grandi cacce, a lì! Il bracco tedesco per l'oporto, vai Maraner! Finone! Aspetta, non li vedo, c'è la signora con il bracco italiano davanti, eh? Ah, è un settling laser, ok! Al centro del ring, il settore inglese, il bracco italiano. Scusate, il drattar! Grazie agli altri, un applauso a chi esce! Vedremo chi è il vincitore, che ritornerà come tutti gli altri domani. Qualcuno applaude, bravissimi! Grazie! 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!